Buongiorno dalla redazione del Messaggero, con noi il dottore Andrea Campana, responsabile della pediatria multispecialistica del bambino Gesù. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a voi. I datici parlano di circa 3,5 milioni di italiani finora a letto con l'influenza, un'influenza che sembra particolarmente critica soprattutto nei bambini. Quali sono i sintomi di questa influenza e quali tenere sotto controllo per prevenire eventuali complicazioni? I sintomi sono simili a quelli dell'adulto, quindi febbre alta, febbre alta di diversi giorni, la possibilità di avere raffreddore o addirittura in qualche modo nel bambino piccolo, tanto più piccolo del bambino, un comprensione della dinamica respiratoria. Sono proprio questi i sintomi a cui fare più attenzione insieme alla disidratazione, perché i bimbi quando hanno febbre tendono di per sé a disidratarsi, se in più tendono ad avere del vomito o non è adeguatamente ad idratarsi, possono andare incontro alla disidratazione. Quindi è importante vedere che i bimbi sia reattivi, che mangino come al solito, tanto più piccoli sono, tanto più è importante che non rifiutano la poppata o comunque il di atto artificiale, questi sono i sintomi importanti. In ambito pediatrico qual è la situazione, in particolar modo da voi al bambino Gesù? Ahimè stanno aumentando, stanno aumentando in modo vertiginoso e quindi sono raddoppiati i casi di accesso in pronto soccorso e di conseguenza anche i ricoveri stanno aumentando. Dobbiamo pensare che in pronto soccorso hanno tanti bambini, dicevamo prima quali sono i sintomi, molti di questi sintomi non devono essere allarmanti, quindi la febbre di per sé non è una situazione allarmante ed è importante prima tutta che i bambini vengono visti sempre dal pediatra di famiglia. Il periodo festivo comporterà maggiori occasioni di incontro sociale, questo quali rischi comporterà nella diffusione di virus respiratori? È stata anticipataria in questo caso l'influenza, però sicuramente il picco si raggiungerà fra due o tre settimane, speriamo il prima possibile in modo poi di iniziare a scendere rapidamente con questo numero di casi, però è inevitabile che aumenteranno e quindi è inevitabile che saremo ancora un po' sotto pressione noi medici. In questo contesto ovviamente influenzale si aggiunge anche la difficoltà di reperire farmaci, arriva l'allarme da Federpharma, parliamo di carenza di antibiotici e di farmaci per aerosol. In questo caso, dottore, quali sono i farmaci che si ha difficoltà a reperire e in caso non si trovino in farmacia, come poter fare? Ci sono state segnalazioni di alcuni antibiotici che non si riescono a trovare in questo momento in commercio perché c'è un grosso uso, ma questo dipende proprio dal fatto che spesso si abusa della terapia antibiotica, quindi sentivo che l'amoxicillina più l'acido clavulanico in questo momento in farmacia si fa fatica a trovare, ci sono dei sostituti, ci sono anche dei sostituti che non hanno la stessa molecola, sarà il pediatra e famiglia a capire se sono dei segni di una sovrainfezione batterica meritevole di una terapia antibiotica che è da limitarsi a un caso su dieci, in tutti gli altri casi sono bambini che devono fare una terapia sintomatica, quindi con dei farmaci quali il paracetamolo o gli antinfiammatori non steroidei che permettono di controllare il sintomo per renderlo più confortevole al bambino, la febbre, il mal di gola che è molto forte ovviamente, la tosse. La terapia rosolica può servire e non servire, non è così determinante, è importante i lavaggi nasali nei bambini perché permettono di avere un effetto decongestionante sulle alte vie, quindi permettono di respirare meglio e quindi di riuscire ad alimentarsi anche. Quali sono i rischi dell'assunzione di antibiotico quando invece non è necessario? I rischi sono le resistenze e ormai da tanti anni stiamo vedendo alcuni antibiotici per noi fondamentali che iniziano a perdere l'efficacia laddove devono essere poi utilizzati, quindi risparmiare un antibiotico in un bambino significa mettergli a disposizione una strategia terapeutica, una possibile arma per curare un'eventuale infezione batterica che dovesse presentare negli anni successivi e magari perde l'efficacia nel caso in cui non venga utilizzato adeguatamente. Il Covid ci ha insegnato bene come proteggerci dai virus, quindi mascherine, distanza sociale, ma per i più piccoli è possibile in un certo senso prevenire. C'è qualcosa che può essere fatto prima, oltre alla vaccinazione? Ecco, ha detto perfettamente. Ci sono tante segnalazioni in realtà di farmaci che hanno un effetto locale e in qualche modo protettivo sui meccanismi di difesa barriere, quindi le vie respiratorie, tenere ovviamente bene pulite in qualche modo decongestionate le vie respiratorie, tende a migliorare la performance respiratoria e il nostro naso funziona come un filtro naturale che impedisce l'ingresso di germi. Questi sono però degli accorgimenti banali rispetto all'importanza di prevenire con quella che è la scelta e la strategia migliore, cioè la vaccinazione. Grazie molto, dottore, per essere stato con noi. La ringrazio molto, la ringrazio, arrivederci.